Il tuo comune ha lanciato il porta porta? Quello con Bruno Vespa! Ma no Bruno, quello del Rusco! Non ci stai capendo niente e ti girano i maroni come due ventole? Non sai quale cassonetto buttare il tuo Rusco? Ma niente paura, da oggi c'è il nuovo servizio delle fattorie Vamolai, Ruscologo! Basta chiamare il numero 123 123 Ugino ma quello è il mio numero? E un operatore 24 ore su 24 risponderà ad ogni tuo dubbio Quello sono io però! 7 giorni su 7! Eh ho capito, è meglio sabato, devo andare a Pinarella! Via le telefonate! Pronto? Sì signora, la banana va nell'umido! Visto, le sa tutte, non ne sbaglia una! Pronto? E il tetrapac, non ho mai capito neanche io dove va! Fattorie Vamolai, i contadini della mediocrità! Il Ruscologo è il nuovo servizio totalmente gratuito delle fattorie Vamolai Che ti dice dove e come buttare il tuo Rusco Garantisce Bruno! Pronto? No signora, la sabetta del gatto non so dove va! Allora, o la porti in panaro oppure insegna il gatto a farla sul cesso Grazie! 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 Grazie!